PizzaFood.tv, Fiera di Parma, questo è il campionato del mondo, la 23esima edizione, edizione 2014. Tanti concorrenti, ce ne sono alcuni assai assai particolari. Uno di questi è qui a fianco a me, è innanzitutto un amico, è un pizzaiolo straordinario, è stato qui per gareggiare. Innanzitutto, Cristian, buongiorno, un tuo commento su questo evento, questa Kermes, che ne pensi? Queste Kermes sono l'occasione per sperimentare tutto quello che si fa nel locale durante l'anno, sono le occasioni per mettere in campo tutta la genialità e tutta la tua inventiva. Ecco, Cristian, però io so che tu hai fatto una pizza che può essere assolutamente proposta al pubblico e quindi anche ai clienti del tuo locale. Ci dici che pizza hai fatto? Ho pensato di presentare una pizza con una base rossa, con della rucola semplicemente condita con sale e olio, ma non immaginiamo un olio che sia particolarmente aromatico o con un carattere forte e deciso. Ho fatto marinare questa rucola per una ventina di minuti in maniera tale che scaricasse tutto l'amaro in eccedenza della rucola. Dopodiché sono a trammettere della mozzarella di bufala, del pomodorino piccadilli, del parmigiano reggiano, alla fine un filo d'olio e ho presentato questa pizza. In prospettiva futura, siamo in primavera dell'arrivo dell'estate, sicuramente sarà una pizza di successo all'interno del mio locale. Bene, ringraziamo Cristian Marasco, questa è PizzaFood.tv da Parma, Francesco Zazzera.